non basta prendere in mano un gamepad o mettersi davanti alla tastiera del pc non basta i veri videogiocatori sono i pro quelli che conoscono tutto che vanno alle chat su twitch a scrivere la soluzione o a spoilerare storie che loro hanno già vissuto quelli sì che sono videogiocatori solo quando conosci tutto a memoria quando sei in grado di trovare qualsiasi segreto e riuscire poi a parlarne guardando gli altri con sufficienza allora sì cazzo che puoi definirti qualcosa vale anche soprattutto per i videogiochi ovviamente massima espressione dell'agonismo e intelletto umano che brutto mondo sarebbe se la pensassimo tutti così un mondo di merda fatto da gente di merda per fortuna c'è ancora chi ha passione sogni e si sente qualcuno o qualcosa solo perché in quel momento sta vivendo ve lo ripeto così che sia più chiaro per tutti vivendo perché vivere significa riuscire a trovare il proprio posto sentirsi parte di un insieme più grande e il videogioco è uno dei più grandi insiemi del mondo per questo motivo chiunque abbia preso in mano un gamepad un telefono qualsiasi altro strumento per videogiocare può e deve sentirsi videogiocatore tutto il resto è solo una nota distorta di una melodia perfetta grazie a tutti